Un'altra frode è stata scoperta dai finanzieri del Comando Provinciale di Roma, che hanno eseguito nelle province di Roma, L'Aquila, Reggio Calabria, Napoli, Perugia, Ancone e Campobasso, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per 22 persone e agli arresti domiciliari per altre 11, per associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti e al riciclaggio, oltre che per estorsione, riciclaggio e detenzione abusiva di armi. Le indagini hanno permesso di individuare come alcuni soggetti di nazionalità cinese residenti a Roma svolgessero sistematicamente attività di riciclaggio dei profitti illegiti conseguiti da più gruppi criminali dediti al traffico anche internazionale di sostanze stupefacenti. Le attività di ripulitura del denaro avvenivano presso le sedi di attività commerciale dedicate all'export import di abbigliamento e accessori moda, tutte gestite da due gruppi familiari di cinesi del quartiere squilino della capitale. Questi esercizi, esistenti solo formalmente, fungevano in realtà da centri di raccolta del denaro di provenienza illecita, destinato ad essere trasferito all'estero, prevalentemente in Cina, in maniera anonima e non tracciabile. Tale illegale intermediazione finanziaria, basata sulla puntualità, discrezionalità e sicurezza, si fondava sul cosiddetto metodo Fei-Chen, che consiste nel virtuale trasferimento di denaro all'estero. Il capo dell'organizzazione, un cinese di 55 anni, offriva anche un supporto logistico e corriere di valuta, per conto dei quali pianificava e organizzava dettagliatamente i viaggi aerei con cui trasportare il denaro contanto all'estero, allo scopo, precipo, di eludere i controlli alle frontiere. Qui il denaro veniva ripulito e restituito ai clienti iniziali, i vi inclusi narcotrafficanti ed emissari vicini alle famiglie di Andrangheta. Nel complesso sono state tracciate movimentazioni finanziarie per oltre 50 milioni di euro, dirette dal territorio nazionale verso la Repubblica Popolare Cinese e sono stati sequestrati oltre 110 kg di droghe tra hashish, marijuana e cocaina e ricostruiti traffici illegiti per oltre 545 kg di sostanze stupefacenti, in un giro di affare tra Spagna e Italia per un valore di circa 20 milioni di euro.